Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e questo video è una specie di aggiornamento sui lavori che sto facendo per i prossimi video per voi. I primi video che vedrete saranno sui micro quadricotteri. Praticamente ho acquistato un po' di micro quadricotteri di varie marche da consigliare ai principianti che ho testato. Sono quadricotteri che costano pochissimo, quelli che costano di meno e serviranno per i principianti per imparare. Dopodiché vedrete una serie di video sulla costruzione di un mini quadricottero per FPV a bassissimo costo. Seguirà anche una serie di video sui settaggi del CC3D che tanti di voi hanno già e tanti vorrebbero sapere i settaggi dei famosi PID. Dopodiché finalmente sono riuscito ad acquistare questo T-Rex 550L Dominator che monterò. Farò una serie di video sul montaggio di questo. Il montaggio non sarà concentrato sul montaggio di questo elicottero in particolare ma sarà sui trucchetti che ho acquisito durante tutti questi anni montando tanti elicotteri. Dopodiché una volta fatto il montaggio dell'elicottero monterò sopra dei vari flight controller come potete vedere qua ce ne sono tre. Il 3GX, il G Pro e l'X Bar. Farò i settaggi di ognuno in dettaglio e poi faremo un confronto insieme tra questi flight controller per elicotteri sul T-Rex 550L Dominator. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che si sono iscritti al canale. Ormai siete più di 2000. Questo mi rende molto felice perché vuol dire che i video o vi piacciono o vi sono molto utili. e chi non si è iscritto fino adesso potrebbe iscriversi cliccando qui sul tasto iscriviti. Grazie davvero di cuore per tutto, anche per il supporto nei commenti. Grazie, ciao, alla prossima. Grazie a tutti.